amici e amiche buonasera buona serata di questo martedì 27 agosto 2024 che ore sono le ore non so se lo vedete qua perché un altro orologio 7 di sera mentre sto registrando questo momento c'è il tramonto qui in sardegna sono una zona in cui adesso non vedete il mare ma vedete le montagne con la roccia sarda con granito sardo bellissime in cui sto registrando questo questo mini 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 video allora ragazzuoli ragazzuoli belle come dico sempre prima di tutto un abbraccio un abbraccio a tutti ma la seconda cosa una cosa dovevo dire perché non ho fatto il video post partita il giorno dopo parma milan perché ero letteralmente depresso da quello schifo di partite immonda lurida che abbiamo letteralmente giocato contro il parma è stata una cosa vergognosa una delle partite più vergognose non mi interessa niente del punteggio di un punto dopo due partite del minano che siamo in fondo alla classifica non mi interessa perché le cose si possono anche migliorare ma la cosa veramente deplorevole è stato come avvenuta questa partita una cosa letteralmente vergognosa senza un gioco senza né capo né coda vi sto dicendo una cosa ovvia che voi già sapete ma adesso la sentite anche dalla mia voce esattamente tre giorni dopo la partita perché non avevo voglia di rovinarmi la vacanza con nel parlare di una partita del genere questa è la verità vi ho detto la verità non avevo voglia di prendermi la vacanza con una partita del genere inizio vacanza allora vi voglio già ricordare vi faccio anche un avviso che noi sabato ci vedremo per il video reaction sì perché ritornerò con un volo delle nove di sera e praticamente riuscirò a fare il video reaction per la partita Lazio Milan sabato ritornerò con un volo alle nove di sera e alle nove di sera per cui ragazzi allora il discorso è questo io di quella partita immonda di sabato scorso non niente più da dirvi perché avevo già detto adesso delle cose salienti perché cosa vi devo dire vi devo dire che abbiamo fatto letteralmente pena non so devo fare praticamente un discorso che è un discorso a che cosa vale altri discorsi a che cosa valgono valgono per che cosa come sfogo che adesso non vale più niente lo sfogo adesso ci vogliono i fatti ci vuole una squadra che ha voglia di ottenere il risultato contro la Lazio visto che anche la Lazio ha perso l'ultima partita avete capito questo è il discorso una squadra che voglia di risultato sui la questione calcio mercato allora praticamente oggi Adli ha praticamente si può dire che anche se non è ancora ufficializzato sta per firmare con la Fiorentina per un prestito oneroso di 2 milioni di euro al Milan con diritto di scatto da parte della Fiorentina di Adli per Adli di 10 milioni di euro non è un obbligo il Milan voleva l'obbligo ma non è riuscito a ottenere questo pur di mandarlo via a giocare giusto come come giusto che sia Adli praticamente avendo accettato la Fiorentina ha permesso al Milan di avere questo oneroso prestito oneroso di 2 milioni di euro la Fiorentina fra un anno lo riscatterà non si sa se Adli giocherà bene la Fiorentina lo riscatterà sul discorso Benasser praticamente c'è un interesse di una squadra saudita tra altre cose qui in Sardegna l'altro giorno proprio ieri anzi l'altra sera ieri sera ho fatto un aperitivo all'hotel Cala di Volpe ripeto aperitivo ed è uno degli hotel più famosi qui della Corsa Smeralda c'era la famiglia Altani proprietaria di Paris Saint Germain praticamente in hotel circondati da guardie del corpo neanche a dirvelo nessuno si poteva avvicinare sì vabbè la battuta l'avrei potuta dire insomma comprate il Milan piuttosto di lasciarci da questi americani che non ci capiscono niente di calcio perché ad oggi si può capire che questi qua di calcio non ci capiscono niente ma anche Ibrahimovic con tutta quella dichiarazione che ha fatto prima dell'inizio del campionato con quella presentazione vogliamo bel calcio offensivo aggressivo tutto il resto sarebbe dovuto andarci un attimino con i piedi di piombo presentarsi questo sì fare una presentazione questo sì ma senza fare delle dichiarazioni così forti che adesso hanno fatto incazzare tutti i tifosi vabbè comunque c'era la famiglia Altani erano qui in questo hotel io ero lì per l'aperitivo con i miei amici la famiglia Altani è proprietario di mezza Costa Smeralda e poi l'altra metà è di proprietà degli americani vi do una notizia come sono gli americani dove arrivano gli americani loro investono per fare soldi e poi forse non si sa mai lasciano anche le macerie qui in Costa Smeralda alcuni hotel in vista fino a poco tempo fa avevano un prezzo per notte adesso hanno raddoppiato triplicato i prezzi ovunque vanno gli americani stava parlando anche in questa vacanza con altre persone dove sono loro i proprietari succede questo perché perché portano turismo americano d'élite turismo americano con i soldi questo è un po' quello che sta facendo non in questa maniera ma similare Jerry Cardinale utilizza il Milan per come vi ho sempre detto trovare una sponda per fare un guadagno facile investendo poco adesso io non sto dicendo che qui in Costa Smeralda gli americani stanno investendo poco perché comunque degli investimenti che stanno facendo ma loro hanno una filosofia e la filosofia della serie io per investire lo faccio come dico io nel caso del calcio giovani giocatori che mi diano un profitto superiore in futuro il piccolo particolare che non ha capito Jerry Cardinale è che sì tu puoi prendere anche giovani calciatori che ti possano dare un guadagno futuro perché si valutano ma lui non ha capito che hai bisogno anche dei campioni veri da alternare ai giovani forti un po' come il discorso che ha fatto adesso la Juventus comprando con Miners dalla Atalanta adesso i titoloni oggi della Gazzetta anche qua in Sardegna tutti ne parlavano la Juventus ormai super favorita per il campionato ha già vinto praticamente lo scudetto napoletani che incontro anche qua in vacanza in Sardegna viene gente da Napoli a tutte le parti del mondo praticamente dicono no ma la Juventus ma la Juventus che roba però è favorita l'Inter questo di su di giù adesso e sinistra questo per dirvi che Redbird Capital Jerry Cardinale Moncada e tutti gli altri non ci hanno capito una mazza ragazzi mi dispiace ad oggi dirvi una cosa del genere non sono in depression non sono in depressione ma la questione è che questi non ci hanno capito niente non hanno capito di come devono sviluppare questo lavoro nel Milan cioè giovani sì promettenti il fofana di turno che abbiamo preso piuttosto che alternato con un vero campione è impossibile concepire ad oggi che non abbiamo ancora preso una punta centrale un attaccante forte centrale dopo più di dieci anni siete vergognosi lo dico la nostra proprietà a Ibraimo c'è tutto il resto siete vergognosi siete vergognosi letteralmente vergognosi ecco io non ho fatto un video subito dopo la partita cioè il giorno dopo la partita come avevo promesso qui dal luogo dove sono in vacanza solo per un semplice motivo perché ero troppo incazzato troppo amareggiato troppo depresso per la cosa adesso mi sta già risalendo l'incazzatura e non voglio fare questa fine comunque ragazzi la situazione a Benasser e Adli è questa per Benasser il Milan potrebbe accettare 30 milioni di euro dall'Arabia Saudita sembra che ci sia una pista aperta molto favorita Adli insomma se ne va la Fiorentina adesso vedremo anche se le smekere che fine farà insomma questi non deciso questo cosa ci prenderanno ci prenderanno questo boss che dovrà fare spoletta tramite un futuro il mia prima squadra che non capisco anche questo qua cosa cavolo servirà questo qui non ci serve un attaccante la punta centrale forte almeno di prendere uno forte veramente forte dio santo ma poi c'è anche sto osimen ma questo osimen che non si riesce ad andare da napoli ma non si può fare un prestito oneroso di osi per osimen di 30 milioni di euro poi te lo paghi in due rate al napoli no niente neanche questo l'ha pure detto anche ci quezza osimen viene al milan vabbè niente ragazzi questa è una tragedia ci sta capitando una tragedia qui siamo poi oggi si viene a sapere che il cardinale non ricezzerà a fonseca anche se va male la partita contro la lazio per cui questi hanno già messo incontro che contro la lazio potrebbe andare male ma vi rendete il conto cosa sta succedendo qua dai ragazzi non volevo fare un video veramente depression però godiamoci un po questo sole sardo queste bellissime sta bellissima terra che adesso qui non c'è il mare un giorno ve lo farò anche dal mare adesso sono qui perché ho fatto un riposino adesso devo andare sul mercato comprare due cose questa sera una cinettina tranquilla stasera serata tranquilla perché questi da quando sono arrivato praticamente ho dovuto un attimino divertirmi insomma deliziarmi di divertimento questo bellissimo posto e cercare di dimenticare i disastri della stromina o qui in vacanza tutti ne parlano io ve lo dico tutti ne parlano qua tutti ne parlano il disastro mi tutti ne parlano mi sta venendo un nervoso che metà basta va bene ragazzi vi mando un abbraccio ripeto noi sabato io ho l'aereo che torna alla malpensa alle nove per cui tutto il primo tempo me lo perdo poi scheggerò come un pazzo a casa in auto e comunque riuscirò a fare il video reaction proprio del tipo due ore dopo il mio ritorno praticamente nel frattempo se ci sono notizie dell'ultima ora di calciomercato ve le darò a questo punto faremo un'altra location vista male alle spalle sembra anche giusto visto che sono un posto bellissimo adesso così va perché devo andare al supermercato che a due passi da qua questo lo devo dire forza mina sempre comunque ovunque fatevi sentire a livello social contro questa società che veramente non ci ha capito una mazza questa società non ci ha capito una mazza questi americani di calcio non ne sanno niente andate a fare la guerra andate a fare altre cose ma voi non sapete niente di calcio questo è quanto vi mando un saluto ciao ciao